Cambiano i prezzi ma anche le abitudini dei cremonesi per quanto riguarda la casa. Se prima si cercava la tranquillità e il verde lontano dal centro, ora si devono fare i conti anche con le criticità che riguardano certe zone periferiche. Per quanto concerne gli appartamenti in vendita, la zona di Cavatigozzi è la più economica, con 935 euro al metro quadro. La quotazione dei singoli appartamenti in tutta la città è disomogenea, secondo l'osservatorio immobiliare a Cremona. Nel 60% dei casi è comunque compresa tra 840 e 1815 euro al metro quadro. Non meno importante è la questione costi. Per gli immobili residenziali in vendita in città, in gennaio sono stati richiesti in media 1301 euro al metro quadro, con un aumento del 4,58% rispetto a gennaio del 2022, quando erano 1244. Sto iniziando a sentire che i tassi di interesse stanno salendo, ragioniamo su archi temporali un po' maggiori direi, nel senso che oggi parliamo di tassi di interesse intorno al 4%, quando ho iniziato io a fare questo lavoro erano molto più alti e la gente considerava sempre più vantaggioso fare il mutuo e comprarsi una casa anziché andare in affitto. In totale sono presenti nella città con circa 70.000 abitanti 2.209 annunci immobiliari, di cui 1.849 in vendita e 360 in affitto, con un indice complessivo di 31 annunci per 1.000 abitanti. Da un paio di anni a questa parte c'è una notevole richiesta di affitti che ha fatto sì che tanti investitori stanno togliendo i soldi dalle banche per metterli a protezione nell'immobile. Sempre secondo l'osservatorio, per le compravendite la zona del centro storico resta quella con le quotazioni più alte. La zona centro, la zona portarumana, la zona poi, la zona castello possono essere quelle magari un pochino più ambite se vogliamo vedere. Il verde attrae di più di prima. È chiaro che se uno vuole il verde si deve allontanare un attimino dal centro. Chi cerca questo sfogo lo cerca di più nella periferia o nel primo Interland.